A 14 mesi da quel 13 novembre 2022 in cui fu uccisa Fano la 23enne ucraina Anastasia, è iniziato oggi in corte d'assise del Tribunale di Pesaro il processo a carico di Amrallah Mostafa Alashri, 43enne egiziano accusato dell'omicidio della moglie con 29 coltellate nella loro casa fanese di Via Trieste. Oggi Mostafa Alashri era presente nell'aula del Tribunale di Pesaro davanti alla giudice Lorena Mussoni per la prima udienza. Alashri deve rispondere di omicidio e di occultamento di cadavere visto che il corpo di Anastasia fu ritrovato chiuso in una valigia nelle campagne fanesi dopo le indicazioni fornite dall'uomo arrestato alla stazione ferroviaria di Bologna mentre era in fuga. Fra gli altri capi di imputazione anche quelli di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate a circostanziare un quadro accusatorio precedente al delitto anche sulla base della denuncia ai carabinieri avanzata ad Anastasia pochi giorni prima del femminicidio. Le fasi preliminare, diciamo, vere e proprie, si sono instaurate le parti processuali, si delibererà adesso su quelle che sono le te, i testimoni indicati nelle varie parti, c'è massima disponibilità da parte della difesa di costruire effettivamente ciò che è accaduto in quei giorni e quindi far emerge la verità con la speranza che la verità del mio assistito corrisponde poi alla verità processuale che si accerterà nell'ambito di questo procedimento penale. Quindi massima disponibilità si dà le prime battute con l'ufficio della procura, questo lo abbiamo già dimostrato nel corso delle indagini, non c'è nessun tecnicismo volto a ostacolare la ricostruzione di quella che è la verità di quello che è accaduto purtroppo alla povera vittima Anastasia, però c'è una verità diversa da parte del mio assistito e cercheremo di accertare se quando ha fermato il mio assistito corrisponde al vero oppure no. Quindi massima disponibilità da parte di questa difesa, tenuto conto della delicatezza anche del caso che si sta affrontando e del massimo rispetto nei confronti della vittima che, ripeto, in questo processo purtroppo è quella che poi ha patito le pede peggiori essendo stata uccisa e quindi mai scordarci questo aspetto. Poi il compito della difesa è accertare la verità e il compito dei giudici definire qual è la verità vera e propria rispetto a questi fatti. Alasceri indicò dove ritrovare il cadavere ma di fatto non ha mai verbalizzato di averla uccisa, asserendo che nella circostanza fu Anastasia ad aggredirla in quel 13 novembre però di non ricordare altro. Le indagini espletate hanno fatto emergere un quadro accusatorio che lascia veramente poco spazio ad interpretazioni alternative rispetto a quelle formulate dalla procura. L'Italia è uno Stato di diritto, pertanto ci aspettiamo che venga fatta giustizia e che sia combinata la giusta pena. Ci sono i maltrattamenti oltre l'omicidio, occultamento di cadavere, quindi diciamo che le circostanze da verificare sono molteplici. Però noi siamo molto fiduciosi. Il mio Stato ha sempre avuto una calma rispetto ai fatti, poi è normale che ci troviamo di fronte a un processo molto delicato con il rischio di una condanna importante. Per cui c'è la preoccupazione rispetto alle conseguenze di questo procedimento, però c'è anche la convinzione rispetto alle sue ragioni, che ripeto sono sue, vanno dimostrate. L'istruttura dibattimentale serve proprio ad accertare la vericità o meno di quanto lui afferma. L'avvocato Giuliacci ha seguito anche la vicenda del figlio della coppia, Adam, che ora ha tre anni, è orfano di madre e con un padre che rischia il carcere a vita. Il mio amore è in Ucraina, sta con i nonni, è stata ottenuta da poco una deliberazione di una sentenza di adozione del Tribunale ucraino del minore, che è stato quindi adottato dai nonni, dalla mamma e dal papà di Anastasia.